in questo video andremo a scoprire tutte le regolazioni che il SEMA prevede partiamo ora dalla creazione di un nuovo progetto clicchiamo su aprire gestione progetto in questa maschera possiamo scegliere varie opzioni da aprire un progetto a chiudere un progetto esistente possiamo creare un nuovo progetto possiamo copiare un nuovo progetto esportare un progetto per la condivisione con altri utenti o importare progetti derivanti da altri autori e anche cancellare un progetto un'opzione che attualmente è attiva è la possibilità di salvare il nostro progetto in un formato apribile anche con la versione SEMA presenter creiamo ora un nuovo progetto cliccando crea nuovo in questa maschera abbiamo la possibilità di impostare vari parametri quali un numero che arbitrariamente noi assegniamo al nostro progetto 10 il nome che il nostro progetto può avere casa la data di creazione cliente città e così via inseriti tutti i nostri campi clicchiamo progetto vuoto e avremo quindi un foglio bianco nel quale poter iniziare a creare il nostro progetto tutti i dati che noi abbiamo inserito relativi al nostro progetto possono essere in qualsiasi momento modificati dal menu file caratteristiche progetto di costruzione in questo caso possiamo aggiungere dati precedentemente non inseriti quali mail telefono cellulari ed altre note il SEMA dà la possibilità di salvare vari contenuti relativi a un unico progetto quali piante prospetti render distinte materiali e tanto altro salvati per categoria questa sezione è accessibile dal menu file con gestione disegno impostazioni molto importanti sono le opzioni generali del programma in questa finestra abbiamo la possibilità di settare moltissime impostazioni consiglio le impostazioni generali che saranno quelle che noi troveremo comuni a qualsiasi progetto che ci danno la possibilità di vedere l'ottica del computer l'uso del computer io consiglio queste impostazioni specialmente per la rotella del mouse per lo zoom e il tasto centrale del mouse come spostamento del disegno ultima sezione importante è la quotatura nella quale noi andremo impostare le nostre unità di misura tutte queste altre opzioni consiglio di andare a vederle man mano che si renderà necessaria una scelta per ottimizzare le prestazioni dei nostri disegni parte importante del SEMA è data dal raccoglitore dei dati fondamentali questa icona nel raccoglitore dei dati fondamentali sono presenti tutti quei dati che noi abbiamo salvato quali ad esempio nelle costruzioni sistema in legno legni con sezioni proprietà e altre variabili oppure oggetti 3d quali ad esempio elementi di arridamento elementi per camere eccetera eccetera in questa sezione sono salvate anche le texture di muro metallo e così via al raccoglitore dei dati fondamentali originario di SEMA si può aggiungere anche eventuali raccoglitori con oggetti e impostazioni personalizzate quali i seramenti la pratolina con le variabili di porte e finestre in varie colorazioni modelli oppure texture impersonalizzate con proprietà scelte in base alle nostre esigenze a questo punto andiamo a vedere altre opzioni in un esempio pratico di un progetto apriamo quindi un progetto esistente possiamo andare in una vista 3d in questa visione possiamo rendere visibili eventuali lavorazioni 3d possiamo disattivare o attivare elementi di copertura ma soprattutto andare a modificare impostazioni di visualizzazione da questa finestra come vediamo abbiamo moltissime impostazioni già pre regolate in base alle possibili necessità che si verificano di caso in caso oppure andare a personalizzarle cliccando su regolazioni che influiscono sull'immagine come vediamo abbiamo tantissime opzioni relative al suolo al tetto al solaio le pareti e ognuna di queste sezioni si divide in altre sotto sezioni con diverse opzioni in questo video non andremo a vederle tutte ma consiglieremo se possibile di utilizzare quelle già preimpostate come si può vedere scegliendo tra le varie regolazioni otteniamo diverse viste esempio questa riporta dei numeri di elemento questa riporta gli elementi riempiti nel loro volume questa riporta la lunghezza dei componenti segnata elemento per elemento questa riporta dei numeri di distinta di materiale e così via consiglio di provarle fin quando non si trova la soluzione che più si adatta ricordo che comunque si potrà sempre personalizzare con le regolazioni che influiscono l'immagine del disegno f7 queste impostazioni richiedono molta pratica e conoscenza dei vari parametri a questo punto possiamo rivedere le varianti del progetto una prima bozza e una seconda coppia i piani un piano sottotetto e una disposizione travi le pareti parete 1 4 6 7 9 elementi in questo caso non selezionati viste 3d non salvate componenti non salvati immagini salvate render sezione tetto progetti con un'anteprima di stampa già salvata con la possibilità di inserire eventualmente altre finestre con altri contenuti sempre selezionandoli dalla stessa gestione del disegno quindi ad esempio una parete 4 la cui gestione è stata spiegata in altri video possiamo quindi inserire anche le immagini che abbiamo visto prima e così via in conclusione di questo video possiamo quindi dire che il sema è un ottimo strumento capace di fornire moltissime soluzioni le quali però per essere sfruttate a pieno richiederanno molta pratica e una conoscenza approfondita dei vari parametri